il buongiorno si vede dal mattino ore 8 pronti per la seconda tappa del tour del Mont Blanc giornata si prevede meravigliosa andiamo avanti tutta io con il mio grande bagaglio inizia la seconda tappa del tour del Mont Blanc che quello ufficiale dovrebbe essere dal rifugio Bonatti al rifugio Elena ma siccome io ieri ho oltrepassato il rifugio Bonatti quindi oggi in un'ora in teoria dovrei arrivare al rifugio Elena e siccome arriverò che saranno al massimo le 9 e mezza prendermela con calma andrò avanti e quindi la mia tappa la mia seconda tappa non so esattamente dove finirà ma molto più avanti molto probabilmente alla terza se non ancora di più quindi niente questo è quanto questo tour è stupendo il Mont Blanc ieri ho visto il Dente al Gigante stupendo 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 avanti tutti eccoci al rifugio Elena in questo meraviglioso pallaggio un balcone stupendo su tutta la valle e quindi Grazie. Grazie. Dai che manca poco arrivare alla Fuli, 40 minuti, poi siamo quasi vicino a chiudere questa seconda tappa del tour del Mont Blanc, paesaggi stupendi, su e giù, su e giù. Grazie a tutti. Grazie a tutti.